Grazie a tutti. Soprattutto uno che mangia bene. Soprattutto uno che si scappa quando c'è camminato da tua gamba. Guarda, 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 guarda. E' visto? Sistema de caricato. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda. C'è più gente. Guarda quanti ne scappano là. Guarda là c'è più gente. Sì, potete anche toccare la testa se ce la fate, se avete il coraggio. Guarda, guarda. Allontanate, piccoli ospiti. È incattazionalissimo il pedone. Mamma mia, non ce la faccio più anch'io, me ne vado ragazze e ce le dammo domani. È nervoso qua adesso, eh. Pittone, per favore, tranquillo, calmati. Ma lo sta caricando, che lo sta facendo? Ah, che bello! È buona per le patate! Sì, facciamo un grande applauso per il nostro partito 20. Nedman! Nedman! È stato veramente bravo! È buona go можно! È buona caponga, bella montata. È buona capogli?! Ciao!